Lei è Ariane, ha 15 mesi, ma pesa come una bambina di 4 mesi, solo 7 kg. Ariane è malnutrita e la sua mamma è disperata. Diventa amico dell'Unicef e aiuta i bambini come Ariane a sopravvivere. Scegli ora di fare una donazione regolare, bastano pochi clic. Grazie ad uno speciale alimento altamente proteico fornito dall'Unicef, Ariane può essere salvata dalla malnutrizione in soli 2 mesi. Ogni 10 secondi un bambino muore a causa della malnutrizione. Diventa amico dell'Unicef e aiutaci a salvare la vita di milioni di bambini in tutto il mondo. Compila subito il modulo accanto. La tua donazione farà la differenza.